un cordiale saluto a tutti voi buongiorno ben ritrovati a tutti oggi è sabato 10 ottobre 2015 e questa è la rassegna stampa di Fano TV Occhio ai Giornali come sempre alle 7.30 del mattino e poi in replica dunque come cominciamo subito con il santo del giorno poi andiamo a vedere il tempo allora oggi è San Daniele Comboni è stato vescovo il sole è sorto alle 7.07 e tramonterà alle 18.47 eh ci fidiamo sulla carta non lo vedremo perché guardate dove è nascosto il sole eh questo è il ciclone il ciclone F2 del quale eh è stato annunciato all'arrivo nei giorni scorsi e questi sono gli effetti in questo momento il satellite sat24.com eh satellite euro eumet sat eh questo è il nome del satellite che sta riprendendo fotogramma per fotogramma l'evoluzione di questo eh di questo ciclone e questa è la eh situazione aggiornata alle 7 7 del mattino ok poi invece la fotografia boom che nero eh guardatela qua il tempo di di questa mattina le 7.30 poi che cosa dobbiamo far vedere? Ah sì dobbiamo andare sul sito della protezione civile perché c'è una nota eh all'inizio del bollettino meteo di oggi per la giornata di sabato e fino alle prime ore di domenica sono previste precipitazioni diffuse anche carattere di rovescio di temporale venti moderati con raffiche fino a forti lungo la costa e mare molto mosso e poi eh ci sono le grafiche eccola qua allora la grafica per la giornata di oggi eh con temperature in diminuzione dei valori massimi venti nord orientali il mare sarà molto mosso vedete il tempo è brutto con temporali all'interno pioggia insistente temporali anche lungo la costa per domani la situazione inizia eh con il maltempo poi eh progressivamente la nuvolosità va a diminuire infatti avremo nella prima parte della giornata di domenica di domani ancora precipitazioni residue poi in esaurimento nel corso del pomeriggio le temperature sono senza variazioni di rilievo i venti sono settentrionali di brezza tese il mare sarà molto mosso lunedì invece il tempo migliora anche se il miglioramento è per poco perché poi vedremo c'è un mix esplosivo ancora la prossima settimana arriverà eh tempo di nuovo perturbato dicevo cielo sereno un poco nuvoloso adesso invece giornali cominciamo a leggere il eh cominciamo dalle pagine di Fano allora pagine di Fano tutte e tre le pagine di Fano si occupano eh del passaggio dal demanio al comune di Fano del campo ex campo d'aviazione quello dove per tantissimi anni si è parlato di realizzare un parco quante volte abbiamo detto abbiamo un polmone verde che sono i passeggi ma abbiamo un polmone ancora più grande che è quello del campo d'aviazione eh però lì si è potuto fare ben poco perché quell'area lì quella grande area verde è sempre stata del demanio e di conseguenza il comune di Fano poteva farci ben poco si è battuto un comitato si è costruito un comitato siamo dato comitato il famoso comitato Bartolaggi che si è battuto tanto in questi anni per realizzare lì un parco ha fatto fare uno studio eccetera eccetera adesso siamo arrivati al punto in cui il demanio ieri ha concesso gratuitamente al comune di Fano quest'area molto grande certo con questi chiari di luna adesso viene da dirsi bene abbiamo il campo d'aviazione abbiamo un'area così importante abbiamo ma cosa ci facciamo visto che non abbiamo i soldi nemmeno per piangere allora questo sarà un altro problema lo vedremo dopo l'ex campo d'aviazione scrive il resto del Carlino di questa mattina è del comune la caserma dei Carabinieri andrà alla Paolini ma anche qui bisognerà aspettare la fine dell'anno poi il prossimo anno sono ancora adesso sono sono annunci 30 ettari stiamo parlando del campo adesso è 30 ettari acquisiti gratis ora il parco urbano è realtà sì il valore di mercato di questi 30 ettari di verde di un milione di euro ma la direttrice del demanio nardi ha tenuto a sottolineare che inizialmente il valore pensate di quell'area era di 14 milioni e 400 mila euro adesso quanto vale un milione e di questo ne parlano come dicevo i tre quotidiani nelle pagine principali di Fano allora vediamo adesso il corriere c'è la firma l'area per il parco del comune l'agenzia del demanio ha trasferito la proprietà gratuitamente vigileremo sull'uso pubblico la gratitudine del sindaco e alle associazioni e a polverari i problemi del vecchio hangar e del centro sociale grisli è qui infatti la patata bollente per il sindaco che può sì sorridere ma insomma sorridere a tempo determinato molto determinato perché adesso dovrà decidere che cosa fare del centro sociale grisli visto che fino a ieri aveva la scusa del che quella quel bene non era del comune adesso invece del comune quindi dovrà stabilire decidere una una via d'uscita sul messaggero invece il demanio cede l'ex aeroporto ora il parco diventerà una realtà storica firma in municipio il comune ha ricevuto gratis un'area di 30 ettari i progetti per il futuro polmone verde possono entrare nella fase operativa si prevedono una zona naturalistica di tuteli ambientali maggiori e un'altra zona attrezzata dove gli anziani possano respirare un po di aria buona sedendosi su una panchina e bambini giocare in tranquillità previsti anche un piccolo punto di ristoro collegamenti ciclopedonali e corridoi verdi gli stradini interni invece le vecchie strutture aereo portuali saranno preservate quanto più sia possibile mascarin l'assessore mascarin ricorda l'ex insegnante lucio polverari dice ripenso lucio e sono felice sempre sul messaggero invece si parla di amianto sotto la palestra venturini si toglie l'amianto sono stati aggiudicati ieri lavori per la bonifica del tetto della palestra venturini che si trova in viale 12 settembre nella zona dove prima un tempo c'erano gli ex carri c'erano i carri del carnevale si occuperà dell'intervento per un valore a base d'asta di 130 mila euro una ditta di sant'angelo in vado sempre sulla pagina di fano del del messaggero rubano alla cop quella di via tasso siamo vicini alla chiesa di san cristoforo la classe la cassa blindata è stata prelevata dai ladri il bottino è di 2.500 euro aset un pool di consulenti invece per studiare e portare avanti la fusione fusione che ormai ben sapete è tra l'aset spa e l'aset holding allora ritorniamo sulla pagina principale del messaggero perché in apertura c'è la sanità c'è il problema adesso dell'ospedale unico ceriscioli il presidente della regione marche che è anche stato presidente che è stato anche sindaco della città di pesaro e l'attuale sindaco matteo ricci vogliono costruire l'ospedale unico a pesaro a muraglia da una parte il sindaco che comunque di centrosinistra di fano massimo seri al quale adesso elegantemente dicono tutti ci dovrà dire anche lui dove la vuole fare insomma cercano in modo elegante di dargli la parola di dire poi non vorrei che già fosse tutto previsto già tutto fatto perché due contro uno dove uno è il presidente della regione mi pare che qui c'è poco da discutere comunque loro vogliono a muraglia lo vogliono a pesaro adesso il sindaco di fano dovrà dire la sua e lui ha già detto io voglio vorrei che questo ospedale fosse realizzato nella zona di chiaruccia che sta qua vicino che sta vicino all'autostrada la superstrada in una zona dove c'è tanto spazio per costruire ecco questa è una battaglia non si sa fino a che punto però è una battaglia il titolo che adesso c'entra poco con quello che ho detto ma ricci apre i privati il sindaco dice piuttosto che convenzionarsi fuori regione possiamo farlo nel nostro territorio critico il segretario della cgl così viene assestato un nuovo duro colpo al sistema pubblico dice la responsabile della della cgl la ricci poi la salvezza di banca marche tra ottimismo e preoccupazioni merloni fondamentale un istituto nel territorio carloni dice sì va beh però adesso viene il difficile dice carloni banca marche e salva ma che prezzo per il territorio chi pagherà il piano di ristrutturazione che sarà imposto dagli istituti di credito nazionali chiamati a partecipare ad un aumento di capitale così gravoso il presidente ceriscioli non può assistere inerte a questi eventi sotto omaggio allo scultore pedini l'artista che dà vita all'acciaio martedì il taglio del nastro in via gagari a pesaro allora dicevamo del dell'ospedale sarà la legislatura del nuovo ospedale ricci con seri ci vediamo la settimana prossima dobbiamo cercare di trovare un accordo sul tavolo ci sono tante questioni aperte poi c'è e parla dell'apertura ai privati l'apertura privata è giusta piuttosto che convenzionarsi come dicevamo fuori le regioni conviene farlo con la struttura del nostro territorio e qui come dicevo prima no non si esclude chiaruccia fosse sei ore muraglia hanno dei limiti poi sopra la delibera diceva fosse sei ore no e muraglia si quindi dove si fa questo ospedale unico allora deve essere raggiungibile in 20 minuti da pesaro deve essere raggiungibile nello stesso tempo da fano dalla bassa valle del metauro e del foglia dice ricci solo fosse sei ore e muraglia hanno queste caratteristiche e siccome quando abbiamo fatto anche recentemente ho fatto le interviste no per sapere come la pensava la paura degli utenti che possiamo tutti noi soprattutto degli anziani e quella di non arrivare in tempo in ospedale quindi dover stare troppo tempo in ambulanza in caso di necessità e quindi di non fare in tempo quindi lo vorrebbero un po tutti sotto casa questo ospedale perché è chiaro che spaventa l'idea di sentirsi male a fano e di dover arrivare in ambulanza sano e salvo a per esempio muraglia eccetera eccetera meglio averlo a chiaruccia questo è il discorso che fanno più o meno anche a pesaro adesso la battaglia è solo politica bisognerà capire chi sarà più forte e chi ci riuscirà a mettere la bandierina sopra come si suol dire ma questi sono discorsi che adesso in una rassegna stampa non si possono fare magari le faremo in un approfondimento magari con una con una con un con un con un talk show dove è possibile avere anche un contraddittorio tra chi la pensa in un modo e chi la pensa nell'altro adesso andiamo velocemente il resto della rassegna stampa solo titoli frane sulla panoramica il comune annuncia interventi urgenti consiglio sul del san bartolo molto partecipato la comunità preoccupata per castel di mezzo e per fiorenzuola poi via branca le luminarie solo per pochi tutto il mondo e paese verrebbe da dire lo stesso problema l'abbiamo avuto anche a fano per tanti anni cioè non tutti i commercianti sono disposti a pagare 80 euro per avere la strisciolina in illuminata sopra il negozio e quindi cosa succede in via branca le luminarie su 42 hanno aderito soltanto 8 come 8 commercianti poi andiamo sul torniamo sul resto del carlino ospedale unico ricci chiede un mese confronto con fano ancora aperto dopo il richiamo di ceriscioli dopo è giusto che decida lui cioè ceriscioli che abbiamo già detto come la pensa lei continua a puntare su muraglia chiedono chiede il giornalista la giornalista bartolucci a ricci non sono io che ci punto su muraglia è la posizione espressa del consiglio comunale ma va trovata una mediazione con fano poi ancora sempre dal resto del carlino un fanese alla maratonè alla maratonè di new york per il piccolo federico e anche per la statua dell'isippo perché sapete la statua dell'isippo è ancora la malibu al museo marco savelli il runner indosserà una maglietta dimostrativa caricatura della statua davanti alla canotta e dietro invece a questa maglietta ci sarà l'appello per il piccolo federico poi contributi statali ai carnevali ai carnevali l'italia si allinea fano ci spera berardi il bando è un traguardo di portata storica entro il 7 dicembre l'ente carnevalesca formulerà la sua proposta a pergola la meloni l'onorevole meloni stregata dal tartufo il sindaco baldelli le illustrerò i nuovi progetti la meloni stregata da pergola alla fiera del tartufo torna la leader dei fratelli d'italia tra l'altro domani alle 10 c'è l'apertura della casa del tartufo e del mercato per a fossombrone per chiarabilli il vice sindaco le acque sono chiare botta e risposta tra michele chiarabilli e maurizio mezzanotti che vedono a quanto pare la città di fossombrone con occhiali molto diversi per dire uno avere un modo e l'altro in modo diverso siamo sulla pagina di fano di nuovo del corriere adriatico consiglieri 5 stelle rifiuti a era atti non chiacchiere il movimento segnala seri anche le dichiarazioni univoche di governatore e sindaco di pesaro ricci e sceriscioli vogliono muraglia e il partito democratico locale deve accettare la scelta sull'ospedale unico l'udc e il progetto fano chiedono un consiglio monografico in casa gli rubano anche le mutande nuovo ride dei ladri in via morandi a fano visitate quattro villette schiera i residenti sono sempre più esasperati il bottino più ingente in denaro e oggetti d'oro sottratto ad un anziano che vive da solo poi danni in un garage spaccata alla cop rubati 2.500 euro la politica omaggia il tartufo arriva giorgia melone i baldeli sindaco dice parleremo della strada del tubero pregiato da sant'ippolito polizia municipale associazioni a tre sant'ippolito infatti dice sia la collaborazione con monte felcino e isola del piano a senigallia due diciassettenni si abbuffano di grappa anzi uno in particolare finisce in coma etilico si scolano un litro e mezzo di grappa fai da te invece di fare i compiti e li ritrovano riversi a terra privi di sensi è successo a marina di monte marciano mentre è stato travolto dal bobcat che è questo strumento che questo piccolo è un mezzo per spostare per sollevare delle quindi questo mezzo meccanico un bobcat che è stato travolto muore un operaio tragedia a ostra vetri a ostra in un cantiere della casa di riposo è stato schiacciato 45 anni davanti ai colleghi e questa è la pagina di senigallia chiudiamo con quella di pesaro a pantano svaliggiate tre abitazioni in pieno centro e in pieno giorno litiga con la mamma invece poi scappa una ragazzina di 12 anni ritrovata a due passi da casa invece a centro pagina via libera al nuovo parcheggio del cimitero nell'area previsto anche uno spazio destinato al terziario si tratta per trasferirvi i chioschi dei fiorai la rassegna stampa finisce qui non vi ho detto forse del funerale di oggi pomeriggio aspetta allora facciamo così perché ecco c'è anche la notizia di funerale di don gino oggi in cattedrale a pesaro il cordoglio dei primi degli ultimi le autorità le comunità religiose ricordano il sacerdote speciale allora oggi alle 15 l'ultimo saluto a don gino rossini amato sacerdote pesarese rettore del duomo scomparso venerdì scorso a soli 64 anni dopo aver lontato contro un male incurabile quindi oggi pomeriggio alle 15 è davvero tutto grazie per averci seguito arrivederci ciao 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 ciao